buonasera scusate non avevo capito che era finita capite quindi facevo fatica a entrare benvenuti dove l'ho messo a eccolo qua la scaletta con tutti gli appunti senza i quali ho anche la giacca scusate ma ci sono problemi climatici c'è il riscaldamento globale qua sono molto emozionato allora eccoci qua mario torsi lo conoscete e io sono a perfetto sì eccolo vai funziona più contento proprio avanti detto che non veniva nessuno guarda sì io temevo che io non temevo speravo finita la conclusione molta gente si alzasse andate via andasse via sono invece venuti sono chi di voi è qui per il congresso congiunto della società geografica italiana geologiche si geologica vabbè c'è un nesso per me era una gafma voluta più o meno e della società italiana di mineralogia e petrologia c'è qualcuno che è qui per il congresso nemmeno una mano si alza nessuno vabbè meno male perché avrei dovuto chiedervi di uscire nel senso che la cosa che sta per avvenire qui hanno anche spento la luce che paura niente e non c'entra niente cioè se qualcuno per caso qui fosse un geologo o un mine petrologo eccetera dovrebbe quantomeno far uscire il suo superio meglio che vada fuori nel senso che la cosa che sta per accadere qui è naturalmente il maestro ufficiante è qua mario tozzi è un rito di sputtanamento di alcuni no di di alcuni grandi docenti per persone che hanno un curriculum vero e che non vorrei che questa sera vedessero andare a pezzi la propria realtà contrario no perché l'obiettivo della serata è un po questo scusate se uso una metafora agricola ma ultimamente mi occupo di agricoltura fare scendere dal pero lo studioso e ricercatore e farlo camminare tra noi mortali nel senso che è molto importante ma questo l'ha detto il signore che ha concluso il professore che ha concluso quindi non faccio che sottolineare che la ricerca la cultura l'accademia in qualche modo si apra e si racconti esca no e e dimostri anche a chi non se ne intende quello che fa perché lo fa non dico a cosa serve se no mi guardi male no no perché la differenza tra ricerca pura ricerca applicata me l'hanno spiegata 5 6 volte alla fine l'ho capita ma insomma al di là no di tutto cosa ci sta dietro alla figura dello scienziato del ricercatore cosa si sta sotto quindi bisogna mettersi anche un po a nudo no se posso prego un po l'obiettivo di questi brevi monologhi che posso chiamarli monologhi come mi viene un altro nome insomma questa specie di rappresentazione che ci starebbe male questi numeri starebbe peggio no questi brevi monologhi che seguiranno hanno questo obiettivo qui di appunto come diceva patrizio fare in modo che chi fa ricerca un po si metta a nudo e cerchi di penetrare in quella che è la società che normalmente invece queste cose non le ascolta nel caso della geologia poi noi ci abbiamo una iattura io pure più che altri ma insomma fondamentalmente il geologo viene chiamato dopo la tragedia a vedere che il fiume è venuto fuori il terremoto ha fatto crollare le case il vulcano è ruttato questa cosa qui è senz'altro importante ma non è il solo motivo per cui i geologi studiano di la verità che vi è venuto un po il complesso di cassanza ecco appunto siccome è veramente oltretutto pesante lì si parla di cose gravi invece noi vogliamo renderlo più leggero e anche far vedere come nella vita quotidiana gli aspetti geologici entrino parecchio e farlo in una maniera se possibile divertente per questo patrizio roversi ci aiuta oltre a essere l'uomo che conosciamo questa è una balla poi non piego cosa c'è dietro e anche si è spesso cimentato con queste tematiche in particolare con l'evoluzione ripercorrendo in una memorabile avventura il viaggio di darwin su beagle attraverso i mari dell'america meridionale con un programma di successo che fu anche molto apprezzato con la collaborazione di varie università italiane per ciascuna delle tappe che faceva questa questa era adriatica anche sì anche il museo di storia naturale di milano che è presente anche qua questa sera bene io ti lascio a milan si così ti lascio la regia no che volevo soltanto sottolineare una cosa a parte che quello che ha raccontato che io sarei non è vero in realtà mi hanno condannato è presente berlusconi ha condannato i servizi sociali per quello che io sono condannato ai servizi culturali per tutte le sciocchezze che ho detto nella mia carriera perché mi capita che per fare una trasmissione dall'elicottero guardiamo giù e io dico che bello da qui si vede com'è fatta la terra e mi sono avventurato a dire delle cose diciamo in geologichese e pare che abbia detto delle stupide agentali hai fatto perché a questo punto sono qui per essere rieducato e va bene ma questo che sia chiaro un tuo collega in sicilia mi ha lanciato un'idea che magari voi la condividete per a me è sembrata un'idea nuova e geniale quella del geologo condotto veramente un'idea che cioè il geologo che deve stare nel territorio a dire la sua sempre che venga chiamato prima ecco non sempre dopo e quindi questo può essere ti lascio la palla noi ci vediamo alla fine sì questa cosa della palla non mi è piaciuta perché tutte le volte che sento la parola palla penso che sia un apprezzamento rispetto alla mia forma geo vabbè allora in poche parole sono sette persone serie che questa sera sono qui per raccontarsi e per raccontare e quindi diciamo così accogliete le con un certo calore e non fate quella faccia da geologo cioè perché per divulgare bisogna a volte volgarizzare quindi insomma si prenderanno per colpa mia delle licenze e questo non deve ricadere sulle loro future carriere perché hanno comunque una grande carriera alle spalle e devono avere anche un grande futuro bene grazie mille grazie mille